Ok, allora come al solito ho preso un argomento e i suoi derivati, parliamo così, diciamo così. Il primo è il seguente, qual è l'opinione dell'ebraismo riguardo al karma? Una parola che spesso sentiamo, allora fa parte dell'ebraismo, non fa parte dell'ebraismo. Qual è l'opinione dell'ebraismo riguarda al karma? Il concetto di karma è un'idea diffusa in molte culture. Nell'antico Egitto si chiamava ma'at, in Grecia si chiamava heimarmene o fato e in germanico weird. Il concetto, vediamo che già in diverse culture c'è l'idea del karma, no? E dici così. Il concetto è che tutto esiste all'interno del sistema, in greco cosmos. Pertanto alla fine tutto rimbalza e torna indietro. Questo è un po' il concetto del karma, no? Che tutto dentro il cosmo e prima o poi rimbalza e torna indietro. Secondo questa linea di pensiero è possibile manipolare il sistema, ma non è possibile sfuggire adesso. Io sinceramente non sono esperto di karma, non ho mai studiato, ma leggo quello che qua il testo ci porta. Ok, adesso parliamo di cose ebraiche. Questo è il karma. La divina provvidenza, quella che viene chiamata hajgaha pratit, significa invece che si può arrivare oltre al sistema. Qua dice che secondo quello che abbiamo detto prima del karma, non puoi sfuggire dal sistema. Quello che è, è. Perciò se c'è un karma negativo ti becchi il karma negativo. Se c'è qualcosa che non puoi sfuggire, se tu hai un qualcosa che è su di te, non puoi sfuggire da questo. Però invece nell'ebraismo, che si parla di divina provvidenza, invece secondo la divina provvidenza, si può arrivare oltre al sistema, non per forza quello che è, per forza del basso, si può andare al di là. È possibile implorare il creatore del sistema, cioè Dio, che cambi il nostro karma. Oppure fare teshuva, rettificare i nostri sbagli, trasformare se stessi e perfino cambiare il proprio passato. Perché la teshuva non ha soltanto un impatto su quello che faccio da ora in poi. La teshuva ha un impatto anche sul passato, vuol dire anche su cose fatte. La mia teshuva può, anche se in modo retroattivo, cambiare le cose passate. Questo è bello. La teshuva cambia la persona, è una vita nuova, una persona nuova. Perciò vediamo che c'è una grande differenza tra karma, credere al karma, e credere alla divina provvidenza. Allo stesso modo è possibile evadere dalla prigione del nostro Egitto personale, per cercare di avviare alla luce infinita, pre-cosmica, liberi e senza confini. Perciò, secondo la divina provvidenza, di shuva e così via, una persona anche la prigione più profonda in sé la può evadere. Perciò non vuol dire che se il tuo karma è stare in prigione, prigione emotiva, prigione spirituale, prigione psicologica, quello che vuoi, questa si forma di prigione. Secondo il karma, questo è quello che hai e te lo vecchia. Secondo la Torah invece no. No, non è così. Per esempio, secondo il karma di Abraham, Abramo e Sara, essi non avrebbero avuto figli. Infatti, fino all'età di 99 anni non avevano figli. Tuttavia, la Torah dice che Dio elevò Abraham sopra le stelle, in senso lato, e Sara partorizia, infatti, quando Dio chiama Abramo per dirgli, per dare la notizia che lui avrà un figlio, cosa che dice lì? Dice, esci dalla tua tenda e guarda le stelle. Non poteva guardare le stelle dalla sua tenda? Perché dice, esci? Allora lì i maestri ci insegnano che Dio sta dicendo, perché Abramo aveva letto nelle stelle, che lui e sua moglie non potevano avere figli. E' vero, era scritto nelle stelle che Abramo e Sara non potevano avere figli. Quando Dio gli vuole dare un figlio, gli dice, esci? Cosa vuol dire esci? Vuol dire esci dalla tua convinzione che non puoi avere un figlio. E' vero che è scritto nelle stelle, ma io sono Dio, io posso cambiare quello che è scritto nelle stelle. Perciò è vero, c'è un karma. C'è scritto nelle stelle che Abramo e Sara non possono avere figli. Era scritto, è vero, non era falso. Però davanti a Dio non c'è niente di impossibile. Perciò Dio dice, esci dalla questa convinzione. E cosa fa Dio? Cambia i loro nomi. Aggiunge una E ad Abramo. toglie un'aiuta a Sara, perché anche il nome fa il suo. Molte volte quando una persona è malata gli si aggiunge un nome, un nome di buon auspicio. Chaim, Refael, Chaia, che vuol dire vita, Refael vuol dire guarigione. No? Perciò è vero, c'è. Il karma esiste, se vogliamo, ma non è, come si dice, non è la voce finale. Noi possiamo cambiare tutto. Similmente il karma della sua prole, parliamo di Abramo, prevedeva che essa sarebbe stata schiavizzata per sempre dal faraone. però vediamo che di nuovo l'intervento divino scavalcò quel karma ed essi furono liberati miracolosamente. Sì, il karma racchiude noi e tutto ciò che esiste, ma c'è un portello d'emergenza tramite la teshuva, la Torah e le buone azioni. Perciò, qui è finito questo articolo? Adesso ne parliamo un po'. Vuol dire che, sì, il karma esiste anche per l'ebraismo, ma non è come le altre culture che il karma quello è. c'è un karma, ma si può benissimo cambiare questo karma. Perché in questo mondo c'è un padrone che è Dio. E Dio predispone ogni cosa. Vi ricordate tante volte ho raccontato la storia, magari non qua nel giovedì sera, o comunque in altre lezioni, non ricordo dove. Ho raccontato la storia della figlia di Rabi Akiva. Rabi Akiva aveva visto nelle stelle che sua figlia sarebbe morta il giorno del suo matrimonio. Perciò Rabi Akiva non voleva che lei si sposasse per non dare dispiacere al povero ragazzo che sposa sua figlia e rimane vedovo il primo giorno di matrimonio. Però quando arriva il momento, l'età di sposarsi, lui la fa sposare invece pensando appunto che ma stiamo scherzando, sposarsi è una mitzvah. Dio è il padrone del mondo e qualcosa succederà. si sposano dopo il matrimonio vanno in tenda. La mattina dopo la figlia di Rabi Akiva corre dal papà papà non sai sono miracolata. Dice cosa, cosa, cosa? Dice ieri sera prima di andare a dormire all'epoca di Rabi Akiva all'epoca dei romani perciò qualche anno addietro non c'era dette città non c'erano tende ieri sera dopo il matrimonio prima di entrare in tenda con mio marito ho tolto questo non so il velo che la sposa ha e questo velo c'ha una aiutatemi una una spina una forcina una forcina grazie una spilla una spilla una forcina e togliendomela l'ho infilzata sull'albero vero e domani metterla a posto eccetera stamattina svegliandomi mi accorgo che la spilla con la forcina infilzandola nell'albero ho ucciso un serpente era buio e non mi sono accorta e questo serpente ci avrebbe uccisi cosa vediamo qua che c'era questo karma che lei veramente doveva morire il giorno nel suo matrimonio però non è successo allora rabbia chi invece dimmi che sa che lui sapeva che appunto lei doveva poteva morire quel giorno dimmi cosa hai fatto di speciale ieri o cosa hai fatto che Dio ti ha salvato la vita lei dice così la sposa invece ieri sera durante i balli eccetera eccetera è entrato è entrato un povero nel matrimonio noi non sappiamo cos'è un povero all'epoca c'erano i poveri i poveri proprio quelli che veramente possono morire di fame è entrato il povero e io da lontano mentre ballavo e gioiavo con le mie amiche ho visto che lui era molto timido era un po' titubante dice io di persona ho lasciato i balli sono andato da lui l'ho accolto l'ho fatto sedere gli ho messo un piatto di cibo davanti e gli ho detto sei mio ospite mangia bevi e gioisci con noi allora Bia Chiva dice questa tua azione ti ha salvato la vita perché c'è da kata c'è il mi mavet la c'è da k salva dalla morte tu hai dato cibo a un povero che è una forma inizia da k Dio ti ha salvato la vita perché tu dovevi morire in verità perciò retroattivo Bia Chiva aveva ragione di avere delle remore timore di far sposare la figlia perché era scritto che lei morisse però lui ha usato il cervello ha detto qualsiasi cosa ci sia scritto e niente davanti alla volontà di Dio infatti con una buona azione che la sposa ha fatto ci è salvata la vita perciò come qua dice esiste il karma ma noi possiamo cambiare qualsiasi cosa tramite le preghiere le buone azioni la teshuva perché alla fine è tutto in mano di Dio è tutto anche quando Dio figuratevi anche quando Dio stesso scrive qualcosa i dieci giorni tra la Rosh Hashanah e Kippur cosa sono? i dieci giorni di penitenza di Shuvah perché? perché se a Rosh Hashanah magari qualcuno ha avuto una scritta non molto bene non molto positiva che Dio ha scritto lui può cambiare la scritta di Dio perciò la teshuva può cambiare anche un qualcosa che Dio stesso ha prestabilito o preparato parola agli intenditori prego ma io ho sentito anche una storia simile quella della donna che ha visto vicino a casa sua nascere un bambino che erano talmente poveri che non riuscivano a vestirlo e allora ha chiesto al marito che era un sarto dagli la lui ha detto dagli una stoffa no no questa stoffa non era un sarto faceva le candele serve per fargli stoppini alle candele non posso per farla breve lei gli ha dato il suo fazzoletto bianco che si metteva in testa a Kippur per vestirla per vestire questo bambino e non è potuta andare a pregare a Kippur e quando il Rebbe ha scoperto questa cosa l'ha fatta chiamare dal marito e gli ha detto come mai non sei venuto a Kippur e lei ha detto e lei ha pianto tutto il giorno le tue lacrime gli ha detto hanno fatto cambiare la sentenza che c'era su tutta la comunità che doveva venire un po' quindi voglio dire le sentenze possono essere cambiate anche assolutamente grazie 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 dottor Messina microfono microfono in fin dei conti è una forma di trascendenza cioè lo spirito o dell'interessato o dello Zaddick che lo aiuta o di Shem in persona che agisce fa passare al di là ti porta al di là di quello che è formalmente scritto come tuo destino quindi è abbastanza anche intuitivo che ci sia questa possibilità direi quindi non bisogna essere rigidi come altre culture l'indu o questi qua che credono in queste cose insomma sì esiste come si è detto ma l'uomo o chi per esso quello che Shem lo aiuta a passare oltre in termini tecnico trascendenza quindi la trascendenza dell'uomo interna a se stesso non rivolta verso l'esterno ma verso se stesso verso il proprio operato verso il proprio destino quindi direi assolutamente molto bene questo insomma non esiste nulla di fisso oh bravo quando sei un dio in questo mondo tutto può cambiare anche l'ultimo si può essere grazie grazie dottore qualcun altro Laura vuol dire qualcosa buonasera direi solamente che bisogna cioè questa lezione è un'altra fonte di emunà emunà ci vuole tante emunà emunà credere avere fiducia in Hashem sapere che le cose possono cambiare anche proprio riferendomi all'inizio della lezione che si parla di Erez Israeli quello è quindi questo è proprio un touche ok sai a Berlin vuoi dice qualcosa lei sempre se voglia la karma non è che abbiamo un buon karma in questo periodo è quello che c'ho da dire tutto può cambiare l'abbiamo appena detto speriamo proprio ok andiamo avanti allora sempre nell'ambito cosa significa Masaltov domanda pensavo che Masaltov significasse congratulazioni ma ultimamente ho sentito che significa buona fortuna perché Masaltov letteralmente vuol dire buona fortuna ma gli ebrei credono alla fortuna? risposta è comprensibile che tu sia confuso perfino il Talmud lancia due messaggi che sembrano essere contrastanti da una parte dice che il giorno del tuo compleanno il tuo Masaltov è forte la tua chiamiamo la fortuna è forte e d'altra parte il Talmud stesso dice il popolo ebraico non è soggetto al Masalto faccio due espressioni nel Talmud contrastanti a priori uno con l'altro la parola Masalto significa un flusso dall'alto e a seconda del contesto Masaltov può avere diversi significati sempre connessi alla definizione alla divisione base dello scorrimento dall'alto perciò questa idea del Masaltov è sempre un flusso che arriva dall'alto un qualcosa che arriva da Asher e dipende dal contesto cosa vuol dire comunque sempre un qualcosa che arriva dall'alto i segni dello zodiaco si chiamano Masalotv che è il plurale di Masal perciò Masalotv sono appunto Ariete eccetera eccetera i segni dello zodiaco ok perciò lì vediamo di nuovo la radice Masal secondo la tradizione ebraica le costellazioni celesti hanno dei compiti importanti nella vita degli esseri umani perciò una persona qua dice il Masal è quindi l'influenza superiore che scende dal cielo infatti una persona che nasce in una certa in un certo giorno in un certo mese ha molta influenza sulla sua persona personalità carattere e così via perciò il zodiaco esiste nell'ebraismo assolutamente certo non stiamo parlando dell'oroscopo che leggiamo nei giornalini gente non so chi quelle cose lì no no parliamo che veramente gli astri il zodiaco esiste e ha unico per esempio per dirne una chi è oggi un shokhet un shokhet è chi fa la macerazione ebraica di solito un shokhet è nato sotto un certo Masal non tutti possono essere shokhet certo posso studiare le regole della sceguità a memoria ma magari non sono in grado tecnicamente di tagliare la gola perché devi essere nato sotto quel Masal Idem chi fa il Mohel chi fa le circoncisioni o chi fa il chirurgo che fa le operazioni non sempre tu puoi studiare la teoria ma magari non riesci a fare la pratica perché non sei nato in quel momento predisposto allora quando si dice eh questo bambino è nato sotto il Masal di versare sangue diventerà un assassino no certo potrà diventare un assassino e versare sangue se questo sarà il percorso della sua vita se questo è quello che vede se questo è quella la comunità in cui vive e le circostanze allora sì è molto tendente a diventare un assassino ma invece versare sangue vuol dire appunto anche macellare un animale che è una mitzvah fare la milà che è una mitzvah può diventare un chirurgo salvare le vite un'altra mitzvah perciò è vero che lui ha il karma appunto di versare sangue ma lui può benissimo convertire questo karma in qualcosa di positivo perciò il Masal è quindi l'influenza superiore che scende giù dal cielo quando il Talmud dice che non siamo soggetti al Masal no significa che non siamo limitati dal nostro destino piuttosto sono le nostre azioni che lo determinano non è il destino che determina la mia vita ma è la mia vita che determina le mie azioni che determinano il Masal la mia vita perciò tutto alla fin fine è in mano nostra non esiste era scritto e così succede punto stop era scritto è vero ma alla fine non è successo perché la persona ha fatto un cambiamento la parola Masal ha un ulteriore significato più vicino alla frase Masal Tov Masal è un termine usato nella mistica ebraica per descrivere la radice dell'anima fate attenzione Masal è un termine usato nella mistica ebraica che è descrivere la radice della nostra anima i cabalisti dicono che solo un raggio della nostra anima risiede nel nostro corpo l'abbiamo detto diverse volte e la parte principale il Masal rimane nei cieli illuminandoci da lontano vi ricordate la nostra anima soltanto una parte un raggio è dentro di noi lascia stare l'anima che entra e esce di notte non stiamo parlando di quello quando dormiamo in generale in generale l'anima che noi abbiamo dentro di noi non è al cento per cento dentro di noi quello che abbiamo è soltanto un raggio una parte l'essenza la parte vera dell'anima è nei cieli la nostra anima ok la sua l'anima sta in cielo e viene giù nel nostro corpo ma soltanto un raggio perciò l'essenza la vera parte dell'anima è su vicino a Dio e manda giù diciamo questo raggio che entra nel nostro corpo ripeto i cabalisti dicono che solo un raggio della nostra anima risiede nel nostro corpo e la parte principale cioè il masal rimane nei cieli illuminandoci da lontano ti è mai capitato di avere un'intuizione dal nulla oppure un flash di ispirazione che ti aiuta a vedere la vita con una nuova ottica capita no? abbiamo un flash abbiamo un'intuizione qualcosa? sempre oh finalmente qualcosa di buono ciò succede perché riceviamo un flusso di energia della nostra anima quell'anima che è in cielo la nostra è più vicina a tutto a Dio a vede allora succede che riceviamo questo flusso di energia dalla nostra anima può succedere in qualsiasi momento ma è più comune durante momenti di gioia come la nascita un compleanno un brit milan bar un mitzvah quello che sia un matrimonio proprio in questi momenti di grande gioia riusciamo a vedere oltre alle cose banali e percepire le grandi verità della vita vuoi avere lampi di genio vuoi avere essere uplifted come si dice elevato e cose simili trovati un attimo di gioia sii gioioso perché la gioia attrae questi momenti di flash questi momenti di intuizione questi momenti brillanti come dice Rashi En Adam c'è una frase che dice che non c'è non sfugge se non c'è gioia non c'è rivelazione divina oh Samuele ci ha deniati per esempio per esempio Yaakov Giacobbe era un profeta come è possibile che non sapeva che suo figlio Giuseppe era vivo prima di tutto perché Dio gliela ha nascosto perché un profeta non è Dio un profeta è quello che Dio vuole dirgli e lui lo dice perciò può essere che un profeta gli venga nascosto determinate cose Dio decide cosa Dio e cosa no ma nel caso specifico di Giuseppe di Giacobbe con Giuseppe lui essendo triste per la pensava che suo figlio era morto la tristezza non gli permetteva di avere nevoa profezia perché la tristezza caccia via qualsiasi cosa di di positività perciò al contrario vuoi avere un attimo di rivelazioni si gioioso e riuscirai a a pregare meglio a capire meglio a studiare meglio a vivere meglio tutto quanto quindi augurando Masal Tov a qualcuno in realtà lo stiamo benedicendo che queste gocce di ispirazione dalla sua anima non si sciolgano ma che abbiano abbino un effetto positivo e duraturo visto che tu hai un Masal abbiamo detto prima il Masal c'è non è che delimita la nostra vita ma siamo noi che lo delimitiamo però Masal c'è gli auguriamo che il suo Masal sia buono ovvero che sia duraturo che non vada via che da questo evento gioioso in poi perché il Masal Tov diciamo ha una festa ha un momento gioioso ma diciamo Masal Tov che tu possa continuare a avere questo buon Masal che da questo evento gioioso in poi vivrai con una maggiore consapevolezza di Hashem perché il Masal la fortuna la gioia porta conoscenza e consapevolezza di Dio gli si dice che tu possa continuare a essere illuminato infine che tu sia cosciente delle benedizioni della tua vita e che sia sempre pronto a riceverne altri questo è fantastica essere sempre cosciente delle benedizioni della tua vita noi dalla mattina a sera abbiamo sempre benedizioni il fatto stesso che respiriamo è una benedizione abbiamo un dato sulla testa è una benedizione ci siamo alzati oggi da letto è una benedizione nel mondo ogni giorno persone vanno a dormire non si alzano più perché se noi facciamo il calcolo da stamattina adesso quanti miracoli abbiamo vissuto e quante benedizioni Dio ci dà ci vuole carta e penna per scrivere tutto però purtroppo non sempre ce lo ricordiamo perché diamo per scontato che viviamo diamo per scontato che oggi ci siamo alzati eccetera 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 però niente scontato non è scontato per niente il fatto che oggi siamo via è un miracolo perciò che tu sia il masaltov è che tu sia cosciente delle benedizioni nella tua vita perché sei pieno di benedizioni il fatto è che manca qualcosa grazie a tutti manca qualcosa non vuol dire che non c'è benedizione non siamo ancora arrivati a quella benedizione ma nel frattempo ne abbiamo una catarva di benedizioni e che sii sempre pronto a riceverne altri come fai a ricevere una benedizione è quando sei ricettivo quando sei positivo quando sei parli sempre in un modo positivo e non non ti lamenti non come si dice in italiano non quando una persona si lamenta non ti disperi si piange ti piange addosso molto italiano tutte queste cose qui fanno in modo che che tu allontani da te altre benedizioni perciò dici che tu possa essere sempre pronto a ricevere benedizioni la ricordiamoci cari tutti lamentarsi piangere essere negativi essere tutto questo campo semantico è nocivo è nocivo per la nostra vita perché manda via proprio con due mani caccia via benedizioni caccia via benessere e lo dicono tutti anche anche i gentili lo dicono la famosa regola della aiutatemi della regola della mi sfugge è una cosa baduk hummus è risaputo se sei gioioso se sei felice se ringrazia Dio per ogni cosa che hai anche se ti piove in testa perché nel tetto magari c'è un po' di qualche buco e ti piove in testa ringrazia Dio perché hai un tetto c'è chi non ha un tetto e li piove tutto in testa dobbiamo essere sempre positivi e gioiosi e ringraziare per ogni respiro che abbiamo una persona che è capace di ringraziare specialmente nel male è capace di ringraziare Dio il suo karma cambia Dio gli da gli apre le porte ma se uno tutto il tempo è triste bla 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 lui sta respingendo eventuali benedizioni di Hashem qualcuno dica qualcosa prego questa è la forza di Chabad guardi che all'inizio quando eravamo lontani e frequentavamo diciamo mi capitava di vedere di incontrare i miei cugini così la cosa che si notava era questa serenità diciamo loro sono sereni di tutto è proprio la filosofia è proprio come prendere la vita vedere sempre la vita dal bicchiere mezzo pieno già se poi è un buon vino rosso come si deve ancora meglio ancora meglio comunque questo è vero è la forza forse possiamo dire che noi abbiamo una limitazione teorica diciamo così o potenziale diciamo potenziale di quello che è il nostro destino ripeto scusi però noi abbiamo il nostro masal generico ci dà delle limitazioni potenziali che possono essere ok ma la decisione di cambiarle è dell'uomo o di Kadash Barokou o dei suoi maestri insomma dello Zaddik eccetera quindi viene da dire che dicendo Masal Tov si augura alla persona che diventi in grado di superarle di cambiare quello che era il suo masal potenziale iniziale teorico diciamo così e lo renda quello che desidera essere cioè che lui riesca a formarsi una decisione autentica di diventare quello che vuole essere infatti abbiamo detto qua la depressione non serve a niente insomma qua abbiamo detto prima si ripeto una frase che appunto abbiamo detto prima che mi ha fatto ricordare a lei il masal è quindi l'influenza superiore che scende dal cielo perciò quando Talmud dice che noi non siamo soggetti al masal in realtà sta a significare che non siamo limitati da questo masal piuttosto sono le nostre azioni che determinano il nostro masal e quindi le tue azioni si augura di riuscire a cambiarle esatto ma le tue di far riuscire a cambiare la persona mentalmente che lui possa cambiare la forza e il coraggio di cambiare il suo masal e ci vuole la partecipazione attiva dell'uomo e voluta volontaria di farlo non così passivamente aspettando esatto esatto esattamente così esattamente così ci vogliono le azioni fisiche cioè anche Rabbi Akiva aveva piantato l'ago cioè la figlia aveva piantato l'ago ha fatto un'azione fisica non ha fatto una cosa intellettuale quindi bisogna fare le mitzvot essere positivi essere felici e che funziona garantisco perché mi funziona a me tutti i giorni essere positivi e in più fare le mitzvot e in più fare le azioni senza azioni come diceva Zalman non si può si perde la si perde cioè non funziona la manna non cade più esatto esatto perciò ok buonasera a tutti mi scuso del ritardo mi sono addormentato buonasera 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 Lina non potrà partecipare scusa anche lei ho sentito un pezzo e diciamo che del poco che ho sentito posso dire che il nostro il nostro masale come l'eco se noi diamo positività ci ritorna positività bella più spesso ti fa bene la bella questa dell'eco non si quello che diamo è un poetico ma lo che mandiamo riceviamo ok qualcun altro vuole dire qualcosa che andiamo avanti boh prossimo ne abbiamo ancora due credi nel malocchio l'occhio dell'ottio malocchio sì o malocchio no domanda mi trovavo a Gerusalemme diretto verso il muro del pianto e vedendo una signora che chiedeva l'elemosina le ho dato una moneta questa sorridente mi ha regalato un filo rosso da legare al polso dicendomi che è un amuleto contro il malocchio ed un portafortuna può essere vero crediamo nei portafortuna questa è la domanda risposta anche se non ho mai visto scritto da nessuna parte sembra che il filo rosso sia una tradizione antica si usa fare sette giri con un lungo filo rosso attorno alla tomba di Rachel e dopo di che lo si taglia in piccoli pezzi da legare al polso attenzione non finisce qua perché non siamo d'accordo in questa cosa qua lo dico subito secondo questa tradizione il pezzo di filo protegge dal malocchio tradizione il malocchio è un termine generico che viene attribuito a delle energie negative che provengono da persone da gente che prova gelosia nei confronti di altri il filo rosso dovrebbe proteggere secondo questa da queste energie tu hai una bella macchina io sono giroso di te io posso causarti malocchio ma lo che esiste nella Torah non è una cosa esiste sicuramente portare questo bracciale rosso al polso non provoca alcun danno secondo quello che scrive questo articolo è importante però notare un'espressione del Talmud trattato di Pesachim che dice il malocchio colpisce solamente chi gli attribuisce importanza restando totalmente innocuo per tutti gli altri perciò il malocchio è vero esiste però più tu ne hai paura più gli dai importanza e più sei recittivo a questo possiamo quindi capire che il miglior antidoto per il malocchio consiste semplicemente nell'ignorarlo se hai paura che qualche energia negativa ti possa danneggiare o se sei convinto di essere vittima di qualche forma di malocchio esistono anche altre soluzioni di questo filo rosso qua lo scudo migliore per difendersi da qualsiasi energia negativa è l'energia positiva l'energia del bene di sicuro per quanto il filo rosso possa aiutarti non sarà mai utile come una buona preghiera un buon pensiero un buon pensiero o una donazione un'offerta in sedaca il filo rosso cos'è dopo tutto cioè non è braismo comprarsi un filo rosso è fin troppo facile forse 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 protegge ma temporaneamente ma di sicuro non è in grado di annullare le energie negative le mitzvot invece come lo shabbat la kashrut i tefilin eccetera non solamente proteggono la persona ma sono energie positive in grado di annullare quelle negative questo filo rosso anche per chi vuole dire che è la tomba di rachele magari per un momento ti può allontanare malocchio forse ma non cambia l'energia lo allontani per un attimo poi torna invece una preghiera un atto di bontà cambia proprio questa energia negativa che magari hai su di te può essere una persona momentaneamente un'energia negativa su di lui allora tu vuoi cambiare questa energia positiva e negativa giusto? come fai a cambiarla trasformarla in bene fai del bene tu fai del bene questa energia da male diventa bene e la stai trasformando per una persona che adempia le mitzvot il bracciale può fungere al massimo da ornamento ok a voi eccomi sono sempre io sono tornato devo recuperare il tempo devo recuperare il tempo che non ho parlato ok stavo dicendo che probabilmente il bracciale rosso non ha una grande capacità ma il fatto che noi ci autoconvinciamo che ci può dare una protezione ci fa sprigionare un'energia positiva che combatte quella negativa non è quello che la Torah insegna ho capito quello che dici non è che è un insegnamento è proprio un'autoconvinzione che aiuta l'essere umano però è sbagliatissimo perché perché noi non siamo limitati a quel filo rosso dal momento che lo mettiamo è perché da qualche parte ci crediamo da noi non lo mettiamo ma è troppo facile abbiamo detto no? anziché lavorare su te stesso per credere in Dio per essere positivo per fare bene che questa questa nuvoletta questa nuvola di sfortuna magari o di malinconia quello che si attia ad osso non è quel braccialetto rosso sei tu che devi fare un qualcosa per modificare modificare capovolgire quella energia negativa perché noi noi umani specialmente noi ebrei siamo campioni delle scorciatoie campioni del volere il braccialetto rosso è una scorciatoia ma non ha neanche un senso in realtà anziché fare amuletti o quelli che mettono l'occhio blu o cose simili non ha nessun valore vuoi avere energia positiva creala e cambia l'eventuale negativa che hai addosso punto stop come la crei con un sorriso con una buona azione con una buona preghiera con una speranza in Dio Dottor Messina aveva acceso il microfono ma mi stava venendo in mente che tutto questo potrebbe avere una lontanissima lontanissima così un collegamento con quello che faceva il Cohen quando prendeva l'uccello in mano la volgeva dentro il panno rosso assieme al legno se non sbaglio di cedro e lo faceva voler via per liberare la persona dalla lebra se non sbaglio quindi probabilmente il colore rosso da un senso di liberazione ecco mi viene in mente questo l'unico contatto possibile insomma se non ricordo male l'episodio del Cohen insomma ma abbiamo un altro articolo su filo rosso adesso ok dopo prego 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 dite dite posso chiedere una cosa prego quell'espressione che qui in Israele va molto io in Italia per esempio non la sentivo così tanto Bliaynara Bliaynara cioè ogni volta che tu devi cioè io mi ricordo una volta che ho detto alla a una delle figlie del figlio di mio marito mi sono rivolta al figlio di mio marito per dire wow come mangia di appetito la tua bambina lui subito Bliaynara io mi sono sentita gelare perché io non ero abituata in Italia a dire sempre Bliaynara Bliaynara e mi sono sentita un po' come dire come se lui pensasse che io potessi no Bliaynara non era rivolto a lei Bliaynara è una cosa generica mica chi dice ho capito ma attenzione non erano offesa a lei era lei ha detto qualcosa su questa bambina qua che mangiava eccetera eccetera attenzione Bliaynara si può anche creare involontariamente il malocchio non è una cosa che io lo posso fare io lo posso fare anche senza accorgermene soltanto dicendo un qualcosa non c'entra l'occhio l'occhio perché vede ma il malocchio è quando una persona dice ah che bella macchina che hai per esempio cos'è la Inara dicendo un qualcosa io apro in cielo un angelo che vede che dice una sorta di din di giudizio su quella persona che dico ah che bella macchina allora c'è sempre qualche angelo che si annoia e che vuole vedere se la merita andiamo a vedere se la merita andiamo a controllare se in effetti questa persona merita questa bella macchina da quando sono qui in Israele ogni volta che aprobocca per dire qualcosa a qualcuno di carino e se cioè dico sempre bliai nara bliai nara bliai nara perché ho capito che anche se a volte lo faccio più perché so che gli altri vogliono che io che venga detto io non ci credo tanto insomma ma stavo dicendo che la nara esiste e lo si può si può fare anche senza volerlo perché ma non ho sentito dire che è assurdo che anche una mamma nei confronti di un figlio può creare una cosa del genere è vero può essere la madre la madre che ama suo figlio involontariamente può fare la nara perché perché dice ma che bravo che sei che bella macchina che hai comprato anche la mamma che non mette cattiveria in quelle parole ma stavo cercando prima che che appunto la persona viene controllata dall'alto è meritevole veramente di avere questa cosa qui e se poi veramente vanno a vedere che non ha meritato questa macchina qui allora Hasashalom può causare qualcosa negativo sulla macchina il fatto che la persona dica Bli Ainara evita questo problema Bli Ainara è diventato una cosa che noi automaticamente diciamo ma non è che il Bli Ainara si lo diciamo così automaticamente in Italia per esempio io non lo sentivo mai dire Bli Ainara non so forse chi abita a Parma forse no ma a Milano non è che frequentavo solo Parma vabbè per dire dipende dipende se lei ha a che fare con il mondo se paradita orientale hai voglia hai voglia ma tutte le mattine preghiamo esatto brava che ci potrebbe di Ainara giusto assolutamente sì sì no era proprio questo modo di dire automatico non l'orella quindi dal momento che esiste lo dobbiamo dire a volte mi sfugge però adesso ormai mi sono abituata e lo dico sempre lei dica Blenera hamsa hamsa piu piu e tutti sono contenti sono tutti contenti ho qualche spunto qua e là il mio nome ebraico è Masal visto che siamo in argomento ecco ok andiamo all'ultimo argomento che è sempre il filo rosso un altro articolo sul filo rosso il filo rosso serve domanda una mia amica ha recentemente comprato un filo rosso che indossa come braccialetto per tenere lontano appunto il malocchio la inarato esiste una fonte nell'ebraismo per questo uso è un'altra persona che chiede a un altro rabbino ok esiste una fonte nell'ebraismo per questo uso dovrei indossarne una anch'io risposta ci sono fonti ebraiche riguardo il concetto di enara malocchio tuttavia che io sappia non esistono fonti cabalistiche o altro secondo cui indossare il filo rosso è un modo per allontanare il malocchio il colore rosso Rav Haim el-Azhar noto come il Minhat el-Azhar nato nel 1868 riporta l'uso di portare un pezzo di stoffa rosso o un oggetto simile sempre rosso per allontanare il malocchio egli spiega che i vari colori rappresentano ognuno un attributo divino diverso perciò gli attributi di Hashem ovvero amore misericordia piuttosto che a contrario rigore e così via ogni attributo ha un colore e che il rosso rappresenta appunto la Gevura vuol dire severità giudizio rigore perciò tutte queste cose hanno rosso che a volte è collegata ad energia spirituale negativa pertanto tenendo un oggetto rosso si può sopraffare il malocchio sconfiggendo il male con il male il rosso è un qualcosa di negativo perché ricorda appunto il giudizio la severità di Hashem perciò un malocchio lo cacci via con un altro male male contro male rosso contro il malocchio nota che il rav non menziona braccialetti né fili e c'è un buon motivo per questo faccio in questo nuovo articolo vediamo che questo rav dell'antichità dice che il rosso in realtà può avere un qualcosa contro il malocchio esistono alcuni usi superstiziosi che pur non essendo proprio idolatria sono comunque proibiti a causa delle loro origini pagane questi sono indicati come i d'archè amori d'archè amori vuol dire le usanze degli amorei in una lista di usi di questo tipo è scritto proprio legare un filo rosso rosso al proprio dito è un'usanza di questi amorei ciò comporta il fatto che portare un filo rosso rientra nelle categorie di usi pagani proibiti alcuni spiegano che nonostante questa spiegazione il filo rosso non è una trasgressione degli amorei mentre altri sostengono che è effettivamente problematico perciò c'è una discussione se è veramente proibito o semplicemente non da farsi c'è chi dice che fu chiesta al Rebbe di Lubavitch la sua opinione a riguardo del filo rosso inizialmente esitò a rispondere ma poi consigliò di non usarli proprio perché è un'usanza di questi amorei in quanto ai colori che possono allontanare il malocchio direi che il blu e in particolare il teheret cioè l'indaco è una scelta migliore del rosso se già vogliamo abbinare i colori eccetera il blu è più che il rosso infatti è scritto nello Zohar che se qualcuno ti guarda con occhio cattivo devi guardare qualcosa di colore indaco e il malocchio non avrà nessun potere su di te infatti la manina con l'occhiello che si vende è blu e questo colore qua ciò potrebbe essere collegato all'insegnamento talmudico per cui il teheret il filo che si colorava nel Zizit c'era un filo che era indaco assomiglia al mare che riflette il cielo e a sua volta ricorda il trono di Dio perciò il mare è blu perché è riflesso del cielo perciò ti ricordi di Dio il vero rimedio parlando di rimedi spirituali o amuleti anche quelli che hanno una fonte autentica per amuleti e cose varie in israeli sono queste cose cammèi amuleti cose varie il Rebbe raccomandava cautela spiegando che non tutte le persone e le situazioni sono uguali siccome questi amuleti vanno fatti con una competenza e conoscenza specifica è improbabile che anche quelli legittimi siano realmente efficaci sì la cabala parla di queste cose qua ma devi essere veramente esperto in queste cose qua perciò non detto che gliele faccia sia veramente esperto o quant'altro perciò sono cose da evitare per quanto riguarda incantatori e divinatori la Torah ci impone di essere punti virgolette sincero con il Signore tuo Dio tamim ti è integro sincero con Dio e di non cercare appunto queste cose qua in definitiva il rimedio migliore è rapportarsi a Dio meditando sulla sua grandezza studiare la sua Torah e fare più mitzvot non c'è motivo di temere il malocchio o di cercare altri metodi di protezione se non che è quella divina questa era un po' per bilanciare colmare la lettera precedente ok a voi ecco volevo dire un'altra piccola cosa a proposito di braccialetti rossi che l'anno scorso mio marito è andato in vita con il suo Moadon alle tombe dell'Isa di Kim è andato anche da Shimon Bar Yokai e quando è tornato a casa mi ha portato questo che è un braccialetto rosso famoso filo rosso e mi ha detto mettitelo perché questo è contro il malocchio io non cioè ho fatto un po' fatica a mettermelo sono sincera l'ho messo qualche giorno giusto per insomma per farlo contento ma poi senza dirgli niente me lo sono tolto però quando vai presso le tombe dei grandi di questi sa di chi li vendono cioè e nessuno dice niente dica a suo marito di portare i braccialetti con gli amanti come si deve non questa roba da due cieche no scherzo non mi interessa poi a proposito sempre di malocchio mi ricordo un episodio c'è Laura Laura mi stai ascoltando certo certo io mi ricordo una volta eravamo a Livorno c'eri tu c'eri anche tu era nato il nipote di una signora che non dico chi ovviamente e tu hai chiesto alla signora quanto tempo ha e la signora ha risposto cinque mesi no a cinquanta no e non gli aveva ha detto a cinquantacinque giorni appunto c'è a cinque appunto no perché siccome non aveva mesi io non me lo ricordo proprio e me lo ricordo io mi ricordo la tua reazione e cosa ho detto no ci sei rimasta un po' male perché effettivamente uno può dire cinque mesi ma quando uno dice cinquantacinque giorni cioè chi è che ti dice che suo nipotino ha cinquantacinque giorni allora lì era chiaro che era un hamsa era come dire ma spieghi perché non capisce diceva spieghi un attimo ma io c'ho la mamma egiziana sono abituata a tutte ste cose guarda non me le faccio no ma visto che ci ascoltano anche in youtube e altrove no praticamente che quando una persona tipo non so come in questo caso Laura aveva chiesto quanto tempo aveva questo bambino quindi aveva mostrato attenzione verso questo bambino allora la nonna temendo che dietro la sua domanda si potesse nascondere non so un invidia o qualcosa di simile verso il bambino allora per ribattere per sconfiggere fra virgolette questo malocchio presunto si dice il numero cinque puoi dire perché la mano la mano che torna indietro però fare la mano ovviamente sarebbe stato troppo esplicito no cioè un ebreo se fai la mano capisce dire cinquantacinque era talmente è stato talmente un po' così un po' strano che si è capito lo stesso comunque basta oppure puoi dire puoi inserire la parola pesce in qualche modo e allora se usi il termine pesce anche quello ti può scacciare il malocchio e questo episodio con Laura pensa che mi sono sposati due figli a distanza di cinque mesi siccome una volta mi hanno chiesto tuoi figli sono sposati in breve tempo uno dall'altro così sono passati cinque mesi perché in realtà erano passati cinque mesi no 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 ma io stavo tanto ma questo bimbo non aveva più quattacinque giorni può darsi di sì perché no 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 ma lo sapevo che non me lo ricordo assolutamente guarda questo ma perché non mi è che Mosco bene non so quando erano ci sono ci sono delle casualità che sono vere come me l'hanno detto no perché questa signora poi ha ripetuto ancora l'ha fatto anche con me l'ha fatto anche con la povera Miranda la nipote Sipronali Bracadi René niente aveva il marito la italiana marito egiziano e quindi gli aveva insegnato bene allora ok sì molto bene va bene va bene come vuole dire qualcosa scusatemi è per questa ma diceva aveva Pisa questa sulla carrozzella ma non credo spenso di no vero di no io ce n'avevo una quando ero piccolo l'aveva messa mia nonna che è Tripolina non che era Tripolina è una piccolina ma ma tanti ce l'hanno sulla tanti bambino ho visti anche in Erez che hanno la massa piccola ma io vedo molti con i teli libro piccolino dei teli ma allora quello sì quello ha senso teli la piccola mezuzada e si metteva la piccola mezuzada sulla carrozzella io mi ricordo poi è un'altra cosa quando uno si sente che c'è un flusso un po' negativo oppure che sente che c'è qualcosa nell'aria basta fare una preghiera il centro lumino fa una preghiera già si sente bene per me è la cosa migliore funziona funziona sempre guarda detto da una Tripolina è tutto anziché dire mettete i hamsa rossi e le dici per la preghiera brava 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 siamo riusciti anche a ridere grazie a Dio ok benissimo